Siamo giunti a un altro spazio dedicato alle novità editoriali e oggi parliamo di una storia che racconta un intreccio di vite complesse che si contrastano così come in un ring sportivo. Al centro infatti non ci sono solo storie di donne e uomini ma l'arte nobile per l'eccellenza quale quella della box. Il libro è così titolato Corpo a corpo e ce lo racconta la sua autrice in collegamento e buongiorno ad Elena Mearini. Ciao Elena, ben trovata, come stai? Ciao, buongiorno, tutto bene, grazie per l'invito. Grazie a te di essere qui con noi e di raccontarci questo tuo volume, questa tua opera letteraria Corpo a corpo, la storia mette al centro una lotta, una lotta costante tra ideale e realtà, tra perfezioni e disconnessioni della vita. Hai deciso di sviluppare, questo mi ha affascinato molto, la vicenda nell'arco di 18 ore, però dove? All'interno di una palestra della periferia milanese. Quali sono, ti chiedo subito, i personaggi che animano questo ring dell'esistenza nel tuo libro? Sì, allora, i personaggi sono Stefano, Stefano Santi che è un ex professore di liceo, il quale si ritrova a vivere una storia d'amore distorto e malato con Marta, che è l'altra protagonista del romanzo, e parte proprio con, purtroppo, con un'uccisione di Marta da parte di Stefano. Chiaramente è una partenza forte e poi da lì si dipana tutta la storia. Stefano resta, dobbiamo un po', c'è da capire chi è tra, diciamo, i due personaggi, poi la vera vittima è il vero carnefice, no? Non si tratta di, non c'è una tematica, diciamo, di femminicidio con la quale fare i conti, nel senso che non è quello il tema, il tema è un altro, il tema è proprio che cosa ci porta a uccidere l'altro per, in qualche modo, sentirci liberi di scegliere laddove non abbiamo. Naturalmente, la metafora però, tutto questo di cui parli, è in realtà anche una metafora dell'esistenza della vita e a darne una chiave di lettura è per appunto il ring, no? Così come il ring, ci sono quattro angoli importanti, laddove si dipanano e si sviluppano quelli che sono i valori dell'amore, la morte, l'amicizia e anche la vita, i quattro angoli in cui c'è questo continuo dualismo, no? Incontro-scontro. La volontà sportiva in questo caso fa un po' da minimo comune denominatore di questa parabola esistenziale. Sì, esatto, infatti come hai giustamente detto, proprio quattro angoli del ring dove poi di fatto le quattro direzioni dove Stefano si dovrà in qualche modo girare, muovere per scegliere in quale strada, in quale direzione andare. Lui si rifugia fondamentalmente in questa palestra alla periferia di Milano e scappa dal reato che ha appena commesso, anche se è stato accidentale, e va dal suo vecchio maestro di box, che è l'altro personaggio centrale, Mario, e lì capiamo come tutta la filosofia della box, la disciplina, il metodo, l'incontro-scontro con l'altro, il corpo a corpo proprio, no? Cioè nell'incontro del corpo a corpo tu sei costretto in qualche modo a conoscere e indagare tutti i micromovimenti dell'altro, no? E sei anche costretto a trovarti di fronte a quella che è la fine dell'altro, la morte dell'altro, e di conseguenza quando noi ci troviamo di fronte alla morte dell'altro siamo anche di fronte poi alla nostra morte, no? E quindi ecco, Stefano cerca di trovare in Mario, intanto si confessa, confessa a Mario quello che è accaduto e cerca di trovare in lui una soluzione, cioè fondamentalmente vado a lui per la domanda è devo in qualche modo confessare, costituirmi, confessare il mio reato o posso scappare, no? O posso in qualche modo trovare delle giustificazioni a ciò che ho fatto, no? Perché, gli racconta, io ero dentro una storia malata, mi sono trovato io vittima. Naturalmente ecco si trovano questi contrasti, queste conflittualità interiori e nelle figure femminili e nelle figure maschili come sta anticipando, perché nelle figure femminili abbiamo Marte e Ada che sono le sorelle che in realtà vanno a rappresentarli, non sono altro che l'alter ego del bene e del male e alla ricerca anche ideale, no? Di quelle che sono le realtà e gli ideali impossibili e quindi questa diventa anche una sorta di denuncia all'ostentazione di una perfezione da esibire però nel virtuale e quindi ritorna ancora un incontro scontro tra quella che è la realtà, la verità contro quello che si vuole raggiungere, ecco una realtà poi costruita ma in realtà non viritiera. Certo, infatti l'altro tema fondamentale come hai giustamente detto è proprio quello della perfezione, no? Perché la storia parallela che sì, se no, da è proprio, noi la viviamo attraverso la voce di Marta perché ci sarà un diario scritto da Marta che Stefano legge insieme a Mario dove vediamo tutta la storia da un altro punto di vista quindi quello della vittima di Marta, vittima barra carnifice e lei ha questa vicenda con la sorella che è la sorella perfetta per eccellenza è una figura angelica, no? È una figura che rappresenta l'ideale a cui tutti ambiamo e aspichiamo e vediamo cosa può produrre la ricerca affannosa della perfezione cioè il diventare perfetti anche a costo di diventare dei mostri poi alla fine, no? Di perdere la propria, la nostra umanità. E da qui poi ecco accade quella, insomma l'altro elemento che per l'appunto riguarda uno dei quattro angoli del ring, ovvero la morte, ma la morte poi riporta alla vita e quindi possiamo dire che le figure maschili, quelle di Mario e Stefano sono quelle figure che muovono le fila di una rinascita una rinascita che però riparte da dove? Dal ring, riparte dai ricordi e probabilmente io ti chiedo se a questo punto lo sport assuma quel valore catartico nel senso che può rappresentare un valore aggiunto alla formazione professionale e quindi ci ritroviamo ancora una volta innanzi alla metafora dell'esistenza umana e dell'esistenza della vita, insomma. Guarda, sì, nel senso che lo sport è una grande metafora della vita è una grande metafora fatta di ricadute, fatta di rialzate, fatta di scontri, fatta di incontri soprattutto la box, come insegna la box esatto, che ritroviamo nella box, fatta di sfide ed è... ho utilizzato la metafora perché ovviamente io essendo grande amante anche della poesia che per eccellenza utilizza la metafora nel linguaggio e infatti appunto a Milano dirigo la piccola accademia di poesia che, insomma, è un luogo che amo molto e mi piace poterlo anche nominare insomma, insieme ai colleghi Angelo De Stefano e Marco Saia e tutto questo, ecco, vorrei dire che nella box poi c'è anche una poesia quella poesia dura, un po' la poesia della crudeltà che troviamo diciamo nella filosofia di Artaud, di Antonina Artaud che è stato il fondatore, proprio l'ideatore del teatro della crudeltà cioè, quell'andare dentro la carne della vita e non dimenticare mai che c'è la morte sempre lì presente ma questo non ci impedisce comunque di continuare a toccare la carne viva della vita e poi, come hai giustamente sottolineato è vero che c'è la morte sempre presente nel romanzo ma è proprio una sorta di, come dire, di piattaforma di lancio per una rinascita per un diverso noi naturalmente consigliamo a pubblico di leggere questo libro ecco, chiedo al nostro regista Salvatore Mondo di mandare in pieno schermo la copertina grazie a te Salvatore allora, il libro Corpo a Corpo di Elena Mearini oggi qui con noi a raccontarcelo grazie davvero, complimentissimi grazie a voi, grazie a te e grazie ancora per l'invito buona giornata a tutti altrettanto buona giornata